Presidente, questa mattina ha convocato tutti i sindaci del comprensorio del BIM, perché? Ma guarda, intanto annunciamo che è la mia prima intervista dal 4 giugno, perché per 4-5 mesi diciamo che non ho mai partecipato a inviti né alle TV né per quanto riguarda i giornali. Stiamo ricominciando con la programmazione, questo era già un progetto che avevamo nel 2014, che ci stavamo già lavorando. Adesso sto ripartendo e convocando tutti i sindaci per quanto riguarda il catastro del sottosuolo. È un altro pallino che avevo come l'Enel Produzione Collici e adesso è un mio pallino per quanto riguarda il catastro. Basta pensare che qui parliamo di banda larga, ma se non pensiamo prima a dire cosa abbiamo in ogni comune nel sottosuolo, facciamo un errore grandissimo. Allora prima dobbiamo provvedere e vedere se c'è qualche possibilità per i comuni di incassare qualche royalty. I mesi persi fino adesso, al di là delle sue ferie, si recupereranno? Noi ce la stiamo mettendo tutti. Non è facile, perché adesso devo iniziare. La prossima settimana quasi sicuramente avrò un appuntamento con la Tercas, che avevo già a febbraio però è saltato, per vedere se possiamo riprendere qualche mutuo, per vedere di aiutare i piccoli comuni con la tesoreria, anche l'unione di comuni, perché sono venuto qui dal BIM per risolvere questi piccoli problemi, o meglio, grandi problemi. Ci stiamo provando. Non so se ce la faremo, però qualcosa cercheremo senz'altro di recuperare. Grazie a tutti.